La protesi dentale nel terzo millennio ha subito diversi cambi di paradigmi e oramai si è sempre più presi dalla fretta riabilitativa, cioè dall'ottenere delle protesi dentali in tempi relativamente brevi, magari anche facendo un viaggio all'estero, e quindi attraverso quel viaggio per una protesi one shot, e quindi anche dall'estetica, dal prezzo basso. Le cause di ciò sono dettate appunto dalla società, dai pazienti, dalla pubblicità, e poi anche da alcuni fenomeni degenerativi che attanagliano il sistema odontoiatrico, come il turismo dentale o le cliniche dentali low cost, che molto spesso realizzano o vogliono, propongono, diciamo, di realizzare delle protesi dentali in tempi brevi. Questi fenomeni sono tipici della nostra civiltà e della nostra epoca, ma in realtà non è possibile avere una fretta riabilitativa, la vedremo appunto in questo video, perché alcune riabilitazioni protesiche richiedono dei tempi in primo luogo tecnici e in secondo luogo dei tempi biologici più lunghi, affinché quella protesi venga appunto realizzata in modo corretto e non dia problematiche. Infatti l'organo della masticazione non conosce, per quanto riguarda la sua capacità di trattamento, tempo ed estetica, ma cerca per tutta la sua vita uno stato di equilibrio e quindi anche uno stato di salute, e si devono quindi rispettare questi equilibri. In medicina non si deve mai abusare delle capacità di adattamento di un organo. L'obiettivo della protesi dentale deve essere quello di riabilitare un organo mutilato, che ha una funzione persa, che è appunto la masticazione, nel modo corretto, rispettando quella che è la fisiologia del paziente. Molto spesso le protesi dentali vengono valutate soltanto in statica e soltanto per quanto riguarda l'estetica. Fanno vedere infatti molto spesso tanti casi clinici di protesi dentali in statica, ma dalle foto di una protesi dentale in statica non si può valutare assolutamente nulla. E come vedere, se ci pensate, una foto di un paziente con un'artroprotesi che è fermo e non si vede magari come si muove quel paziente con quell'artroprotesi? Si deve appunto vedere come quella protesi funziona in movimento, e nel nostro caso vedere appunto se quella protesi permette al paziente di masticare correttamente o se invece appunto per il paziente magari non è possibile masticare con quel tipo di protesi. La riabilitazione protesica deve quindi rispettare, diciamo, l'equilibrio dell'organo della masticazione, che è frutto di milioni di anni di filogenesi e che ha selezionato i caratteri biotipologici peculiari di Homo sapiens.